un saluto agli amici della casa chiave di Milano oggi abbiamo fatto una seconda chiave senza tracomando per Citroen C3 perfetto vediamo se apre cediamo il motore alla grande seconda chiave codificata alla casa la chiave è fatta in pochi minuti per Citroen C3 ottimo eccoci qua Milano casa della chiave number one eccoci qua Grazie per la visione!